io sono a fine dicembre 20 mi pare sono in endgame adesso siamo con i caralisti di un joker contro caso prima questo joker assene non usa neanche il joker non piccaro ma ce lo faremo a dare bene quando non sai il biker non puce tre volte è un joker comunque il numero del giorno che procede a fare cosa da caso io provo subito una spike no 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 non è caso è kiwi la skin di kiwi ecco la set hai visto le skill dei personaggi e dei c quelle che usano per esempio che sono staccati e in italiano si chiamano super mega quindi hai super mega oscurità con arse deve essere fantastico si alla rage prima ho detto che trovi da super mega non c'è bisogno che lo dica più Anziché 70 euro a 500 35 35 135 partiamone anzi no, partiamone perché c'è Jonno qui che sta facendo giornate la sua giornata oggi andrà oh, il drag down la DIY di Jonno non salva pericoloso, 103 ma la rail riesce a tornare orto si sta facendo un ottimo air guard poco troppo non prende con il down air adesso ha sending off 100 jump 1 jump 2 up smash il giorno che rolla a pochissimo scudo prova una fin vista e perde la rage molto da air la differenza ai GSS fare questo fare con lente fare 2 e kill down air grab ha studiato il combo di gioca no, non fare fare non fa non fa non fa non fa non fa troppo tardi quando ci ha studiato questo è tutto che è già ok 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 chord questo tipo è svegliamo in usc venga c'è il gradino quando capisce penvard il a raccontarsi e recuperata una situazione di pesante vantaggio è il momento di ti ma ti ha attaccato Ha provato a fare una stage bike ma non si aspettava che qui si beccasse giorno è stato aggiornato Passiamo a game 2 Come si fa spagnolo, i nostri amici gli ascoli errati di Gesù Cristo Non si fa spagnolo, i nostri amici gli ascoli errati di Gesù Cristo E' un momento che si fa spagnolo, si fa spagnolo, io sono stati e di un momento che si fa spagnolo Non si fa spagnolo, non si fa spagnolo, non si fa spagnolo Non lo si fa spagnolo Il vero non si in personaggio, e lo avrebbe fatto per me Ora la customizzazione è come un cacchiai notte E anche... Ci tratteniamo Vediamo un po' Adesso speriamo un cambio di personaggio Johnno Torniamo alle origini Johnno Inkling Non la vedevo dalla venuta di Cristo Sono passati 87 anni Non vedevo un ping dalla venuta di Cristo Non dirò uguale Marco Capeglia ha deciso che questi set andranno su Granitmash No Let's go Entro in termine alle convinzioni di cui c'è di commentare Vabbè Vabbè Non possiamo... BOMBA Perché... Spurino Ma non va tipo Mario Bianco contro Tentia Però... Un po' di contro Spurino Spurino Questo Arsene... Tirato fuori Torni dritto dal basso Rescendo un down air Dentro per mandare fuori stage BOMBA Non prende, non intercetta male colore Il vecchio air è morto Alsen è finito Il gioco deve stare attento con le bombe perché Mattia può usare le carità di se Alsen Quasi si prende una pennellata in pace seguita dal rullo compressore Bomba per trovare attorno a giornale Il gioco è un po' di inchiostro non è più tanto fantastico Non è riconoscivo le facce di me Ecco l'impatto ci ha provato Ma è comunque abbastanza vicino ad Alsen Alpsmash però Trova una kit Ho visto quando ho già fatto la Alpen Che No hai giocato ad Alpen Si perché ero in un'altra giunta E ho visto che Se provi a fare un grosso caso Alpsmash 1 Alpsmash 1 è assorbito Alpsmash 1 E' un po' di inchiostro E' un po' di inchiostro E' un po' di inchiostro E quindi devi trovare Alpen Molina Ho un po' di inchiostro Sempre con queste Tornati Torna giù Anche io lì mi aspettavo subito Un downhaya damanti Onestamente Un downhaya Un downhaya Rullon non connette Prende Egon Super mega oscurità Super mega oscurità Aiuto Super mega Super mega Super mega oscurità Super mega oscurità rullo finisce abbiamo augurato qualche sfumata che il video è budget cloud perchè 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 comunque torna al senato 36% molto early joker early adesso ripeti a joker early perchè ha il senso comunque non torna ancora non credo sia provando neanche provando a prendere la recovery con un down air dunque jab mette un po' di inchiostro prova a prendere col rullo carica l'abbia ma non lo prende oya gal per cercare di interrompere il recupero un po' di bomba per un po' di tempo carica un po' di inchiostro 169 è ancora lì rischia tanto con quella ma c'è comunque bomba la prende ricoperto di inchiostro bomba per coprire di nuovo ma lì giornale ha rischiato tantissimo assolutamente l'avrebbe di atomizzata solo che uno solo che esatto una stock in più e joker a 160 e 4 è un miracolo per portarsi pieno una cringiata può succedere una giornata ok bomba la mazza niente giorno ha deciso di giornata con la counterpick che non vedevamo un minkling di giorno da un sacco dunque brutta notizia non è come in Fez dove Dai Quormi poi passava da Adis a Tantos ma è esclusivo di Adis adesso quindi ritorno non posso rifarmi il set a Tantos prima ti chiede che la musica ce nemmeno noi non la sentiamo in Fez hai votato secondo Dai Quormi con cui farmavo livelli con la partita imbarazzante ma in reloge la mares maschi peculiare di Adis quindi Marti a Fox una gara di counterpick fuori testa cosa sta succedendo su bastion forza fina super mega super mega forza fina 3 4 5 ok ha capito come si gioca a Fox ti manca solo nero ti manca solo nero esatto eccolo l'ha capito apposto è fatta ok è vero un po' in ritardo la chi l'ha trovata non c'è una bomba dall'altra parte come come rullo non prende è una mossa sicuramente è però rullo non 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 seppellisce ecco sei mattieti a fare full of l ecco la puoi occhi guarda qui lei ha fatto i pulsanti in me stai giocando a Foxy incredibile ok torno, mi so a grab è molto close adesso lei ha sbagliato un pin lei ha sbagliato un pin oh ha provato molto vicino a quacchillare con a pair su un plazzo 2 sul plazzo 2 continuiamo a il è al smash che trova la seconda la seconda si lascia attacca adesso big jo big jo ok oh 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 ha provato la smash 4 special ok fail torno di dentro fuori upgrade boost no è andata dall'altra parte è come forno mhm prezionato il giorno è si deve giocare così cacchia 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 no eh oppressed la possibilità come si chiama come si chiama il port Pub 2003 e bruttissima La tecnica è la tecnica riparata era letteralmente jump jump up smash Spera te la faccio rivedere E letteralmente jump jump up smash Non voglio sapere cosa ho detto Spero che il mio social credito non sia Un po' 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 Adesso Un po' Un po' Un po' I have a level battle Why are we going out? No, son Son, non è... Ma la vi... Mi ricordo male perchè Sto scoprendo molto Si torna Foxy Ho visto Sul canale di Steven l'avevo visto 3, 2, 1 Go Questa è il posto del fan Personale Quattro gioco migliori Quali sono gli altri? Ma io ho Asmaster Si, la mia top 5 vende con me Il quinto è vice di dungeon Questa è la sua Questa è la sua Qui Ecco, ma c'è solo il picchiaduro Che vuoi? Beh, c'è proprio un cross combat se vuoi Eh, ma non c'è San Flora con gli sciocco Mi piace Non c'è nemmeno Un basketball che fa Puoi venire con me Francamente Se ci aggiungessero con il Biancaso E' meraviglioso Al grabo di Vagetà Su Una scale from 1 to 10 Oh dear Eccolo Eccolo Subito Eccoci Eccoci Comunque Eccolo 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 e spargo per battagliana ha iniziato a fare up smash top ship dopo i primi date ma stai scherzando? perchè fa up top ship l'ha fatto l'ultimo ensambio dite a gabriel leggere sul telegram l'ha avvisato magari l'ha avvisato sul telegram l'ho avvisato mef draw clip la porsosetto dovremmo ottimare e vero ma kit super mega bait super mega job se tu ci pensi il ninja è super mega No, però per adesso ho fatto un chiotto Ink boost Comunque ti faccio vedere un'immagine Di tutti i tempi La bomba connette Oh, la connesso anche la seconda No, hit the second bomb Adesso ha ink boost E' super mega No, hit the second bomb Shadow Che è entrante Che è sciato Volevi up in Comunque La Kiko di Kagi mi sta piacendo Più di quello di me Ho visto un video che ha fatto Ha fatto un po' segreto Di personal trailer Con solo Death Rock Aspetta, questo è Malware No, no, non solo Death Rock Con solo Death Rock Con solo Death Rock Mi piace Quindi in teoria puoi fallo Anzi che andrilla male Ho letto per un secondo Andrilla mafie E io ho letto E io ho letto Io 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 No No Ti ho capito Jack Frost lo direbbe Jack Frost possiede E io ho letto Già Già Block In To Smash Che Dibile Bomba Per Torna Safe Affortunatamente Ancora qua Questi Ben Gameplay Migliore di sempre Ragazzi Il rullo E Baccio E Già Non vince Peccato E Spesso Fox Stava cucinando Ma Super Mega Super Mega Perché C'è